Sergio, perché un film sui tetti? Un film sui tetti perché è la storia di un incontro che in qualche modo salva. Per salvare, secondo me, bisogna faticare. Per salvarsi bisogna faticare, bisogna salire. Sono partito dall'idea che il personaggio che interpreto, questo Tonino Cipriani, un criminale di bassa categoria, è una specie di topastro di fogna. La storia è in qualche modo la sua salvazione. Perché lui si salvi deve in qualche modo ascendere, salire, fare un percorso, elevarsi dallo strato più basso della società in cui lui è abituato a vivere e andare su, su, su e scoprire che esiste un cielo. Lui il cielo se l'è dimenticato. Invece il personaggio interpreta Rocco, che è un indiano, lui vive proprio a contatto ancora con la natura, conosce il flusso migratorio degli uccelli, conosce le costellazioni. Quindi ho raccontato la storia di questi due. È una specie di barone rampante, appollaiato su un tetto, convinto di essere l'ultimo dei siù, che in qualche modo guarda le cose da questa prospettiva, dall'alto. È l'altro che invece non pensa nemmeno più esistano le stelle, che le vede solamente a Natale, come sul presepe. E volevo raccontare queste due diverse idee del mondo, che sono due diverse prospettive, ma anche proprio prospettive geografiche. Chi lo guarda dall'alto e chi lo guarda dal basso. Far incontrare questi due personaggi, il loro incontro procura una sorta di cortocircuito, ma poi dà a entrambi la possibilità di imparare la visione del mondo dell'alto, e quindi di crescere. Da quel tetto si vede il cielo, però si vedono anche le ciminiere. Ecco, questo ci fa anche riflettere su, al di là della storia dell'amicizia, anche su quello che c'è fuori, su Tara. Certo, io, diciamo, essendo partito da questo indiano, da questo personaggio convinto di essere un indiano, l'ultimo dei Sioux, in qualche modo poi cercavo una città fortemente industrializzata, quindi immediatamente quando ho pensato all'indiano ho pensato a Taranto. Ho pensato a Taranto, un luogo in cui, se tu guardi quella città, tu capisci che quello è un luogo in cui un tempo davvero, c'erano le praterie, i boschi, i laghi, c'era la bellezza. Poi tutto si è guastato perché a un certo punto arriva questo mostro che avvelena tutto, avvelena l'ambiente, avvelena lo scenario e avvelena gli indiani. Infatti i Tarantini sono un po' indiani, sono tutti indiani. Ricordiamoci che Taranto è la città con la maggiore mortalità dovuta al lavoro, e quindi diciamo i Tarantini sono indiani e come nelle riserve indiane poi alcuni indiani morivano, altri per non morire erano costretti a collaborare con gli Yankee e quindi anche a Taranto ci sono alcuni che muoiono e altri che sono costretti a lavorare all'Ilva. Pertanto mi sembrava che il racconto che avevo in mente su una città di Taranto fosse assolutamente calzante e quella degli indiani è una tragedia ed è un genocidio, e quello che sta avvenendo a Taranto è una tragedia ed è un genocidio. E sui tetti si scappa, si evitano i colpi di pistola, ci si muove, e quindi c'è anche un po' di action. Io ho pensato anche a qualche film americano in cui ci si insegue le scene finali appunto di questi film movimentati, è che era importante questa componente di azione. Ti sei anche divertito a saltare, correre da una parte all'altra? Sì, mi sono divertito, abbiamo anche molto faticato. Io, insomma, essendoci un indiano, un po' di western ci doveva essere nel film e quindi ho pensato anche a un western su queste terrazze, un western anomalo. Io non cerco, diciamo, l'action movie con le musiche o con gli effetti speciali. Volevo fare una storia cruda. La mia è una sorta di favola neorealista che sembra in qualche modo un ossimoro, perché il neorealismo con la dimensione favolistica sembra non andare d'accordo. Invece, se tu pensi anche, diciamo, nel nostro cinema del passato, i film di Zavattini erano favole neorealiste. Miracolo a Milano è una favola neorealista. Quindi ho cercato di mettere insieme questi due registri e cercare di raccontare una storia sospesa su un tetto, ma che fosse il più possibile radicata nella realtà. Quindi il personaggio di Rocco all'inizio l'avevi scritto per te, poi com'è andato? No, non l'ho scritto per me. L'avevo pensato per me. Come mi è capitato di fare altre volte per altri film. Però poi quando ho raccontato questa storia in un ristorante a Rocco, lui mi ha detto, mi piace questa storia. E al che l'ho guardato e ho detto, ma cavolo, ma lui potrà fare qualcosa di più. Perché poi un comico, come lui, anche raffinato, che si ritrova un personaggio che oltre ad essere comico e anche invece altre diverse chiavi di lettura, ti dà di più. E Rocco infatti non ha dato a questo personaggio solo una grandissima interpretazione, ma soprattutto gli ha dato la sua umanità, la sua verità. E quindi con gioia ho dato questo personaggio a Rocco e io mi sono ritagliato il personaggio dell'altro. Il modo di parlare Tarantino rispetto a Bari, per cosa si distingue? Ma quello che parliamo non è Tarantino. Tu infatti non sei pugliese, no? Per questo ti chiedo. E certo, infatti io mischio, un po' i pugliesi si incazzano, però io mischio i dialetti con la convinzione che da Roma in su nessuno è più in grado di distinguere nemmeno la differenza tra un calabrese e un siciliano. Siamo tutti un popolo del sud e quindi stare invece ad alzare muri e dire no, io sono di Bari, no, tu sei di Taranto, lì si parla così, lì si parla così. Invece per gli altri siamo tutti persone del sud e mi piace di più questa semplificazione. Siamo tutti del sud, quindi sto poco attento alla filologia io.